ciao a tutti ragazzi questo è pancast reaction il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video se anche tu hai un video da consigliarmi scrivilo qua sotto nei commenti partiamo ciao a tutti ragazzi bentornati su pancast reaction allora l'altro giorno stavo guardando pancadeca e ho visto che è uscito è uscito a quest'anteprima del video per poi rinascere ancora dei frammenti featuring euge dei bull brigade chi sono i frammenti e chi sono i bull brigade vabbè bull brigade band di torino in giro da una quindicina d'anni li conoscete più o meno tutti quest'anno hanno suonato praticamente dappertutto hanno suonato al matrimonio di mio cugino e al funerale di nonna santina e in tutti i festival park di sto cazzo di paese hanno suonato i bull brigade chi sono invece i frammenti per i pochi di voi che non li conoscessero i frammenti sono una band anch'essa proveniente dalla scena hardcore di torino che sono formati invece negli anni 90 primi anni 90 ed era da circa una quindicina d'anni che erano in in pausa di riflessione sono tornati l'anno scorso e adesso è uscito appunto questo video che diciamo unisce insieme le due anime punk della città di torino due anime punk della città di torino e quindi i frammenti da una parte e i bull brigade dall'altra non ho ancora sentito il pezzo non so bene di c'è non è che non so di cosa aspettare perché i frammenti li conosco i bull brigade pure quindi dire sicuramente non sentiremo del techno oggi almeno credo di no comunque andiamo a sentirci per poi rinascere ancora frammenti featuring euge dei bull brigade bello il video nel senso video di qualità da quel che sembra mi piace un po in bianco e nero quindi può amar cord si qua diciamo che il mondo è quello appunto come vedete anche dalla maglietta il mondo askardu mondo passatemi il termine emocore ma emocore per come lo intendevano gli embrace per come lo intendevano i fugazzi gli askardu e quel genere di emuli quindi il primo emo e per non lasciarsi perdere io ti dirà la necessità diventando solo incoscienti e temporali sogni e visioni e speranze è un bel pezzo mi piace molto bello molto ricercato nelle sonorità a mio parere anche il video si sposa molto bene con con il testo della canzone con il mood soprattutto della canzone perché il testo lo sto ascoltando ma cioè avendo il testo sotto mano magari riuscire a fare un'analisi un po' più approfondita così oggi non riesco troppo bene però sicuramente con il mood della canzone si sposa molto bene con questi bambini in questo ambiente bucolico gli occhi forse per più blu le notte senza mattino e dei passi in cerchio tutta la volta rinsalendo colline di corsa pioni specchietti libri persi a Firenze scolpita di tronca gli occhi noi come la nebbia prima del sole che cosa rimane soltanto parole forse un'altra ferita nel mio pezzo anche i ragazzi li vedo belli convinti soprattutto il ragazzi questo qua il poverino con la testa china dai non ti preoccupare su è quasi finito il pezzo non ti preoccupare non lo chiamiamo più Eugenio a cantare con noi stai tranquillo guarda invece il cagnolino come è preso bene mi fa sempre spaccare quando vedo la tastiera perché io queste tastiere all'interno di questi pezzi non le sento mai non so voi ma io non le sento mai cioè la tastiera il pianoforte le sento quando le suona Giovanni Allevi perché suona solo quello cioè solo quello nella cazzo ma sennò non le senti mai non ho mai capito a cosa cazzo servano ciao 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 finished questo era per poi rinascere ancora dei frammenti in featuring Eug di The Blue Brigade un bel pezzo maturo molto introspettivo era quello che mi aspettava dai frammenti bello anche il video molto pertinente al mood della canzone mi è piaciuto molto e bravi bravi ragazzi in bocca al lupo per le future produzioni vi lascio come al solito qua sotto in descrizione i link per andare a beccarvi i frammenti e niente ragazzi spero vi sia piaciuto il video scrivete un commento qua sotto con una band che volete vedere reagita dal sottoscritto iscrivetevi al canale perché dobbiamo essere di più perché così divento ricchissimo e potrò finalmente aprire la mia label specializzata in tecno e ci vediamo alla prossima state bene mangiate le verdure uscite nelle ore calde ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti